Il confusione sarà perché ti diamo, è un'emozione, è sta che c'è lo piano, vincito a te, è sta di più vicino, è chi la salta, è un corpo di un ventino. C'è la domenica prima, con il numero due, Davide, con il numero uno, Gesù, con il numero due, Con il numero 3 dicembre Capitano Alessio Con il numero 21 Luca Con il numero 22 Matteo Con il numero 63 Patri Con il numero 68 Riccardo Con il numero 79 Florio E con il numero 93 Riccardo Ci siamo? A disposizione di Milano Con il numero 25 Pepe Reina Con il numero 90 Antonio Donnarumma E' quell'altro scoppiato di me Tutti gli scoppiati Sono rosso Con il numero 11 Fabio Con il numero 18 Andrè Ho sparito qui Non la prendo solo stipendio e basta Ma vai lo è sparito Con il numero 17 Cristian Danzacano Zapatone Con il numero 19 Ignazio A parte della scoppiata Con il numero 77 Alla scoppiata Viva vince Sì 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 Andrattore C'è Naro Raduzzo Alla copoglione Vipe di buttare tutta la squadra avanti PORCO DIAMome Porco Un 5-5-5 Tutti in avanti PORCO DIAMope MUTTA BIPERATI HOUGH SPONSUCCHI QUI MUTTA Poinciiate E架ole ALE ALE NASA BIPERATI CAPA PANICA Grazie a tutti 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 Grazie a tutti